BCC Arena estate 2018, presentato nell'ormai familiare ed accogliente sede della cooperativa di Tre Ponti, il ricco cartellone messo a punto per la stagione estiva dal Teatro L'Aperto Fanese. Tra novità solute e conferme solide, il cartellone della BCC Arena è un cartellone che soddisfa tutte le esigenze per passare delle serate all'aperto all'insegna della buona musica e del divertimento. Però la scommessa quest'anno la facciamo oltre alle due serate importanti, l'orchestra Rossini che fa Michael Jackson e la serata del primo settembre con l'orchestra Bagutti e Omar Lambertini, due settori di musica completamente diversi però con tanti amanti. Tra le novità solute di quest'anno c'è l'ingresso di uno spazio dedicato alle band rock giovanili emergenti che ha trovato finalmente, è il caso di dirlo, grazie alla lungimiranza degli organizzatori, un vero spazio dove farsi conoscere e presentare il proprio riff. 17, 24 e 31 sono le date, sono tre martedì, il primo giorno diciamo avremo band più sul rock, rock classico, il secondo giorno un po' più sul pesante, sull'aggressivo per chi piace fare casino e l'ultimo giorno avremo le cover band. Tra le certezze il pilastro da sempre e di questo spazio è il teatro sotto le stelle, l'amatissima rassegna di compagnie dialettali che portano qui i propri allestimenti collaudatissimi nella stagione invernale dove anche qui, felicissima intuizione, non si vedranno solo compagnie locali ma più della metà sono da fuori città, pesaresi, urbinate e anche senegaliesi. Il livello oltretutto è anche abbastanza elevato, quindi belle commedie, dei bei spettacoli insomma, delle belle compagnie e di conseguenza sicuramente ci aspetterà una rassegna che parte dal 2 di luglio fino al primo di settembre tutti i lunedì come sempre. Altri capisardi stagionali immancabili sono i comici del San Costanzo Show, i barzellettieri di Acrepapelle e poi le grandi band e le grandi orchestre, sia folk che sinfoniche, insomma per un'estate di grande spettacolo bisogna passare dalla BCC Arena.